è sempre sempre nei guai la bella e brava Irona Staller cicciolina sempre nei guai adesso si trova nei guai a causa del suo figliolo perché il suo figliolo ora è indagato perché la polizia nell'appartamento a Roma sulla via Cassia dove abita il figliolo di Irona Staller cicciolina ha trovato della droga e in questo appartamento sulla via Cassia e oltre al figlio di Irona Staller abitavano o circolavano pure tre africani e pare che di droga ne sia stata trovata parecchio Irona Staller si è precipitata nell'appartamento sulla via Cassia a Roma e ha detto mio figlio non fa uso di droga però le indagini sono in corso io vi allego il link della notizia la notizia l'ho letta su Infatto Quotidiano e la sto qua commentando ma Irona Staller mi interessa non tanto per questo episodio per me banale che il suo figlio che farebbe uso di droga ormai c'è mezzo mondo che fa uso di droga è importante non essere un pusher cioè non commercializzarla la droga io l'ho conosciuta diciamo una cinquantina d'anni fa sulle pagine patinate di Playman un mensile d'avanguardia era il settimanale il mensile patinato di Adelina Tattilo 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 mi ricordo Irona Staller è stata la prima pornostale in Italia all'estero non so che sia stata la prima pornostale in Italia Irona Staller è stata la prima pornostale io ero giovane ero giovane mi piaceva tanto vedere Irona Staller mezzanuta poi Irona Staller si è dedicata ai pornovideo c'erano i giornali dove si vedeva chiaramente che Irona Staller faceva delle cose molto brutte molto bruttissime bruttissime che con termini scientifici si chiamano Fellazio 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 si 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 poi Irona Staller da Marco Pannella è stata portata a un parlamento pensate voi è stata pure una parlamentare poi dopo passa un giorno passa l'altro e si è ritrovato senza quattrini anche perché ha avuto da trimbolare ha avuto da tribolare col marito, col marito, per fare il marito sia stato un americano, un artista americano, però ha avuto da tribolare, ha avuto da tribolare ed è caduta in miseria, è caduta in miseria, si lamenta in continuazione, si lamenta in continuazione, per cui io porto in una strada, sempre come esempio, per ricordare alle brave belle girl che la strada del porno è una strada che porta nella valle della disperazione, la valle della disperazione è caratterizzata dalla miseria più nera, per cui chi prende la strada di fare la porno slag, poi quando diventa vecchia non avrà neanche i soldi per andare in casa di riposo e dovrà andare a mangiare un piatto di minesto alla gara, capito? Beh cari amici, vi lascio la notizia, vi lascio la notizia, vi lascio, e voi leggete la notizia, e fate i vostri commenti così come io ho commentato la notizia, e voi sapete chi sono, vero? Io sono Serafino Massoni, eccomi qua, sono Serafino Massoni, eccomi qua, a tutti e tanti cari saluti, per l'appunto da Serafino Massoni.